Centro storico vietato alle auto dalle 10.30 del sabato a l'una del lunedì. Da sabato prossimo 30 agosto scatterà ufficialmente la ZTL permanente che durerà sino alla metà di ottobre. Il provvedimento sarà approvato dalla Giunta, convocata dal vice sindaco Luciano Marinucci per domani alle 15 e reso esecutivo dal prossimo weekend. Già vengono sollevate le prime polemiche sul perché di una decisione a fine agosto. Che senso ha chiudere il centro a settembre e la domanda che si sono posti alcuni cittadini? Partire in un mese in cui il passeggio diminuisce risponde Marinucci ci permetterà di valutare l'indice di gradimento della gente sulla chiusura del centro storico in un periodo diverso da luglio e agosto. Il vice sindaco Marinucci considera sperimentale la chiusura che si avrà a settembre per metà del mese di ottobre. Ci servirà per raccogliere i pareri di residenti e commercianti, dice, e stabilire come e quando applicare il provvedimento nei mesi successivi. La ZTL permanente durerà per sette settimane, entrerà in vigore sabato prossimo e terminerà domenica 12 ottobre. Si tratta di un semplice prolungamento di orari, al contrario della ben più complessa pedonalizzazione prevista dall'ordine del giorno dei consiglieri Valerio Gianandrea e Fabio Ranelli, approvato a maggioranza nell'ultimo consiglio comunale. Avrebbe richiesto, spiega Marinucci, un iter più dettagliato che non sarebbe stato possibile espletare nel giro di pochi giorni. Dopo questa fase sperimentale con la ZTL permanente sentiremo tutte le parti interessate per decidere insieme il da farsi. Nella riunione di giunta di domani approderà anche la questione dell'affidamento del servizio rifiuti. L'esecutivo dovrà approvare le modifiche al regolamento del controllo analogo che dovranno passare successivamente al vaglio della Commissione e del Consiglio comunale entro settembre. Gli atti si rendono necessari per esternalizzare il servizio che attualmente si mostra carente in termini di personale e mezzi. È un dato di fatto purtroppo che molti cassonetti non vengono svuotati e anche la differenziata in centro funziona a singhiozzo. I cittadini giustamente protestano per il comune e un'autentica patata bollente.